Buon pomeriggio a tutti, benvenuti e ben ritrovati in un nuovo video sul mio canale e quest'oggi siamo qua per parlare di tennis quest'oggi siamo qua per parlare della sesta giornata dell'Australian Open prima però di fare ciò io vi invito ragazzi ad iscrivervi al canale e devo fare una cosa, vi devo ringraziare perché il video di Sinner è letteralmente esploso ragazzi è letteralmente esploso io ci tengo a ringraziarvi di cuore per il supporto che mi avete dato a parte che adesso mi senti anche 1088 visualizzazioni su YouTube Studio 285 iscritti, ok se ti sei iscritto uno stavamo a 286 ma ugualmente 9 iscritti in un giorno ragazzi cioè io vi devo veramente ringraziare non abbiamo mai fatto così tanti iscritti in un giorno non ho mai fatto così tante visualizzazioni in così poco tempo e adesso il video di Sinner sta adesso che sono le 3.50 questo video non so che ora lo farò uscire alla fine adesso il video di Sinner sta 285 iscritti a 787 visualizzazioni spero che arrivi a mille e probabilmente quando pubblicherò questo quando uscirò questo video sarà tipo 860 magari un altro centina di visualizzazioni non l'avrà fatto però ragazzi ci tengo a ringraziarvi per il supporto che mi avete dato con quel video anche nella live e con il supporto che mi state dando in generale ragazzi perché in questo mese in questo gennaio veramente mi state supportando in maniera pazzesca e non so come ringraziarvi se non cercando di portarvi dei video ancora migliori ancora più completi ancora più coincisi ancora e non so come e l'unica cosa che posso fare è portarmi una copertura della Australian Open ancora più completa di quello che io mi potessi immaginare quindi ragazzi veramente grazie mille a tutti non fermiamoci qua mancano soli 15 iscritti adesso per arrivare a 300 ragazzi siamo alla sesta giornata della Australian Open ne mancano ancora 9 cerchiamo di arrivare a 300 iscritti entro la fine dell'Open Australia cioè se facessimo giorni tutti come questi arriveremo a 400 lo capisco che questo è un giorno speciale insomma giocato sin è una cosa dell'atto una live questo è stato un giorno molto pimpante molto profiguo per il canale però cerchiamo veramente di arrivare a 300 iscritti mi farebbe un piacere pazzesco l'obiettivo è quello di arrivare a 300 prima della fine dell'Australia Open l'Australia Open finisce il 28 gennaio è alla portata di questo canale è alla portata ragazzi sono convinto che ce la possiamo fare quindi cerchiamo veramente di arrivarci e forza così continuiamo a spingere quindi iscrivetevi al canale condividete il video ovviamente ad amici, parenti chi più ne ha più ne metta dopo commentate ragazzi sesta giornata dell'Australian Open partiamo dalla Road Laver Arena Sabalenka 6-0 6-0 contro Zurenko riguardo a questa partita non ci sta moltissimo a dire se non che Sabalenka sembra essere in una condizione spaventosa nel senso che io ho messo Sbiontech che ho assolutamente paura di aver fatto una grande castroneria oggi Sabalenka ha demolito Zurenko semplicemente l'ha massacrato non ha capito niente e Sabalenka veramente è stata fenomenale 6-0 6-0 al primo turno aveva dato un 6-0 6-1 al secondo turno ha vinto tipo 6-3 6-2 ragazzi Sabalenka ha perso 6 game in 6 set cioè dobbiamo dire qualcosato questo ha dominato più di Sinner senza senso comunque sia Sabalenka c'è dagli ottavi di finale Zizipass batte bene Vanash per 6-3 6-0 6-4 è uno Zizipass che ha giocato direi anche meglio di quanto mi aspettassi e complimenti a Zizipass perché comunque sia si è meritato questa vittoria ha giocato una bella partita è stato bravo adesso vediamo se riuscirà a battere Taylor Frizz in ottavi di finale giudicare sui posti nei quarti e poi andare a sfidare Djokovic probabilmente probabilmente non credo che Manarino sarà in grado di battere Djokovic oppure vediamo se riuscirà in ottavi come io prevedo vediamo vediamo cosa accadrà veramente solo il tempo potrà dirci comunque sia bella prestazione di Stefanos Zizipass poi gioca un doppio sulla Rod Lever Arena e ragazzi non lo commento perché insomma questo questo video parliamo di singolare poi partita di chiusura non partita di chiusura penultima partita del del tabellone del delle partite sulla Rod Lever Arena chiedo scusa Novak Djokovic contro Eceverri vince Djokovic in 3-7 per la prima volta in questo torneo 6-3 6-3 7-6 il torneo di Djokovic inizia oggi oggi Djokovic ha giocato una buona partita ovviamente non ancora al suo massimo ma a confronto alle partite con Prismic e quella con Popir e ragazzi questo è un altro giocatore è un Djokovic che ha giocato molto meglio Eceverri non ha giocato male perché comunque sia lo ha portato a tentare perché è il terzo e perché comunque sia ci ha provato fino alla fine però Djokovic è salito di livello e già con questo Djokovic ovviamente si va molto più difficile se Djokovic avesse continuato a giocare come con Prismic e come con con Popir probabilmente avrebbe perso da Sin invece se Djokovic gioca così e anche meglio perché secondo me andrà solo crescendo la partita diventa un 50-50 perché Djokovic in Australia è sempre favorito però diventa complicata per Sin sicuramente e oggi Djokovic ha giocato bene dritto rovescio servizio oggi dolore al polso sembrava non esserci tutto ad un tratto e complimenti a Nole che adesso giocherà gli ottavi di finale il 21 gennaio poi Kreshikova batte in rimonta Hunter 4-6 7-5 6-3 e affronterà Amirra Andreva ragazzi io mi auguro che vinca la russa oggi sono contento che abbia vinto lei perché la ho al Fanta e la situazione al Fanta Tennis è disperata però sarà un eufemismo perché comunque sia Sviontek allora ho Djokovic al quale mi fido Sviontek che barcolla e sarà molto complessa poi mi sono usciti Irune e poi Gula in una botta sola mi è uscita pure Kazatkin adesso mi è rimasta Andriva ovviamente aveva votato Djokovic e Sviontek Andreva mi è rimasto Dimitrov che potrebbe seriamente arrivare in semifinale perché ragazzi con Medvedev che sta giocando così con Rune che è uscito si ci sta a caccia però comunque sia attenzione a questo Dimitrov attenzione a questo Dimitrov comunque sia Kershikova affronterà Mirina Andreva poi Margaret Cortarena Yannick Sinner non ho già parlato nel video che ha fatto quante 750 visualizzazioni non 787 visualizzazioni Yannick Sinner batte Sebastian Baez per 6-0 6-1-6-3 lo ha piallato lo ha massacrato è stata una partita di Sinner veramente dominante è stato un rollo comprensore uno schiaccia pass uno schiaccia sassi chiamatelo come vi pare ma quest'oggi Sinner è stato qualcosa di stupefacente nel terzo set per fortuna Di Baez non ha voluto giocare bene quattro primi due perché sennò era 6-0 6-1-6-1 non so se avete visto la partita io l'ho vista insieme a Valt che saluto ma ragazzi se Sinner avesse continuato a tenere i ritmi dei primi due parziali nel terzo Baez avrebbe subito un alto parziale simile a un 6-0 o a un 6-1 non ne parlo molto di questa partita perché l'ho già parlato nel video poi Koko Goff batte Pax per 6-0-6-2 in un'oretta un minuto insomma partita dominata da parte della tenista Stella Strisce contro una sua con nazionale ma la sua con nazionale non è a livello di Koko Goff e brava a vincere brava a dominare senza così due partita meritata poi Timo Fiva Timofeva non so come si dica batte ad Admaia non ricordo se io l'avessi detto credo che io avessi detto che avrebbe vinto ad Admaia però comunque se avevo detto che Timo Fiva le chance ce l'aveva 7-6-6-3 per montare per quinto 9-7 ragazzi sicuramente partita non semplice da digerire per la brasiliana però comunque si ve l'avevo detto mi aspettavo sapevo e avevo il presagio che qualcosa potesse succedere in questa mattina Andrei Rublio mi sorprende su un certo punto di vista perché avevo detto che avrebbe vinto in 4-7 invece no vince in 3-7 6-2 7-6 6-4 8-6 a Typer il secondo beh quel Typer senz'altro è stato decisivo per quanto riguarda l'inerzia del match perché alla fine dopo quel Typer che era un po' cambiato tutto si è corda con cui sia vincendo quel Typer poteva portare su uno pari e iniziare una partita totalmente nuova invece Rublio sul 2-0 praticamente poteva mettere il pilota automatico e andare a vincere la partita anche se con Seibot Wild la cosa non è stata la cosa non è andata Things didn't go as planned per l'italia inglese comunque sia buona vittoria di Rublio perché si trova ancora una volta in ottavi di finale di nostalgia John Cana Renan Isimova batte Padosa per 7-5 6-3 6-4 ferma il rientro di Padosa Taylor Fritz batte rimonta Marozan per 3-6 6-4 6-2 6-2 dai Fritz almeno fino ai quarti cioè mi serve mi serve qualcuno al Fanta che veramente mi risollevi mi risollevi questo pen d'Australia che da quello che sto capendo andrà a finire che sarà una catastrofe poi Deminar batte male nel senso batte male Coboli perde male di punteggio ma ce lo potevamo citare contro Deminar 6-3 6-3 6-1 comunque sia l'Australiano è top 10 al mondo l'Australiano ha il pubblico a favore l'Australiano è nel mondiale un momento della carriera insomma le cose che andavano a favore di Deminar erano tantissime e purtroppo non è stato in grado Coboli nemmeno di pensare in dopo un set è stata questa insomma con questo dobbiamo accettarlo Coboli è un buon giocatore ma non è ancora a livello di Sin vediamo se Marciano arriverà comunque sia buon anzi fantastico torno di Coboli solo applausi per questo tenista anche se oggi ha perso in tre parziali Chiarena Kascianov batte Marciak 6-4 7-6 4-6 7-6 bella vittoria qua da parte di Garenkac Kascianova che affronterà Yannick Sin posso dire il primo avversario reale per Yannick perché gli altri tre erano talmente inferiore che Sin non hanno dovuto sudare per portarsi a casa gli incontri invece con Kascianova se non deve sudare dovrà per quanto la vittoria in tre è sempre l'estito più probabile in questo caso Kascianova vince in 4-7 come detto Frek batte Zakrova per 4-6 7-5 6-4 quindi 3-7 Mannarino batte Ben Shelton l'up 7 del giorno oddio non lo so se l'up 7 del giorno è questo non lo so batte Mannarino batte Ben Shelton per 7-6 1-6 2-7 6-7 6-3 6-4 batte da interessantissimo ovviamente per usare un eufemismo continuiamo a dire utilizzare eufemismi vediamo chi vincerà e vediamo chi vincerà scusatemi ragazzi c'ho sonno sono completamente rincredito sono frullato completamente stavo dicendo una mattina interessantissima che si è conclusa il quinto dopo 4-4 di battaglia alla fine si impone il giocatore più anziano più esperto Mannarino 3-7 6 1-6 7-6 6-7 3-6 6-4 bravo sicuramente di Minara poi doppio doppio singolare Kostiuk Menazian vince Kostiuk in 3-7 rimonto 2-6 6-4 6-4 poi altro singolare Kostiuk non c'è nessuno non ci sta Andreva Parry vince Andreva ragazzi dopo stare sotto in una situazione disperata nel 3-7 dopo stare sotto 1-4 se sbaglio 0-3 entro e robe del genere riesce a vincere la parte di battaglia in modo clamoroso anche complice una Collins che semplicemente se l'è fatta addosso poi abbiamo Andreia abbiamo parlato K8 non ci sta nessuno K9 non ci sta nessuno K10 non ci sta nessuno K7 non ci sta nessuno perché credo che non ci sia nessuno sì non deve essere nessuno sì non c'è nessuno ragazzi questi sono i miei commenti per la sesta giornata dello Sane Open vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video mi raccomando non dimenticatevi di andare a vedere i video di Siena di iscrivervi al canale che l'obiettivo arriverà a quota 300 prima della fine dello Sane Open se avete amici se avete parenti se avete conoscenze che si dovrebbero iscrivervi iscriversi fatele iscriversi fatele iscrivere veramente dare essere una grande mano condividete i video più prossimi possibili quindi non solo non è chiare iscritta ma condividete ai gruppi di classe ai gruppi che vi pare mi raccomando e dopo questo vi invito a lasciare il like non ci si vede questa sera con un nuovo video